se non è mai no no dimmi Marci dimmi Marci dimmi guarda una letta nei pensieri ci possiamo mandare un messaggio scusate ma allora si fa le gattine che ci sono no? e do un filetto invece che due se mi da uno più filetto perchè se le cose se le filetto se no 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 quindi si da un filetto quindi sarebbero... sono tre, sono sei funzioni più c'è la coda di rosco si però io l'altro giorno ho trovato un po' e ho fatto anche un tema ma non è un po' questo ho fatto il sugo perchè dormi piccoli perchè mi piace molto perchè un po' vabbè posso fare anche pelle si vede fino a qui c'è fino all'arista fino all'arista fino all'arista fino all'arista con l'arista è poco dimmi più 22 22 se non lo volete fare gremi ma scusami eh le figli domani? eh io rimane per tutti piccoli quindi si possono pensare anche la sera guarda qui e qui aspetta il 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 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. No. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti